Una società senza madri sarebbe una società senza pietà. Il pericolo di oggi è una globalizzazione nella uniformità. La vera unità si fa nella diversità. Nei poveri si manifesta la presenza di Gesù. Sono loro il nostro passaporte per il paradiso. Il Rohingya. Non ricordo cosa ho detto. So che a un certo punto ho chiesto perdono. Nel momento io piangevo. Grazie. Grazie.